5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra 5, piena, 150. Al cartello accenno sinistro, lungo, pieno. Per l'ultimo pallo, destra 4, subito destra 3. Destra 4, subito destra 3, non taglia, 100. Sinistra 3, più doppia, la seconda chiude, 50. Destra 5, cieca, vai, tieni, eh, 150. Sinistra 4, lunga, lunga, tieni. Per destra 4, piena, 50. Piella qui, eh, 50, 50. Al paletto, ritardo a destra 2, sale. Destra 2, sale, no all'interno. In sinistra 3, no all'interno. In destra 2, no all'interno. In sinistra 5, 50. Sinistra 3, tieni, no all'interno. Attenzione alle frecce. Destra 2, no all'interno. 50. Sinistra 4, chiude 3, interno piena, 50. Chiude 3, 50 piena. Sinistra 4, cieca piena. Per al secondo paletto, destra 4, piena. Subito sinistra 3, tieni, scivola. Per destra 2, ampia. Destra 2, ampia. 100. Destra 4, no taglia. In sinistra 5, vai. 200, vai, tieni giù, eh. Attenzione, sinistra 2, lunga gira, ampia, sconnessa. Sinistra 2, lunga gira, ampia, sconnessa. Siamo sotto di 2, eh. 100. Ritarda poco, destra 4, piena. E stacca. Destra 2, lunga, scivola. Chi è la, eh? Vai. Destra 2, lunga, scivola. Per sinistra 4, doppia. Sinistra 4, doppia. Per accenno destro, accenno sinistro. Subito destra 4, esci largo. Per al cartello, destra, sinistra 4, meno, cieca. In destra 3, lunga, lunga, diventa 4. Destra 3, lunga, lunga, diventa 4. In sinistra 3, piena. 100. Tieni giù qui, eh. 100. Al cartello accenno sinistro. Subito destra 4, sporca. Subito inversione sinistra stretta. Vai. Per destra 5, subito destra 2, sale. Destra 2, sale. Per ritarda sinistra 2, ritarda sinistra 2. 150. Alla casa, attenzione sinistra 3. Tieni la sinistra, eh. 50. Sinistra, vai. 50. 50.